Girgenti Acque annuncia un emiglioramento della distribuzione idrica a San Leone, frazione balneare di Agrigento e afferma l'intervento di sostituzione della condotta idrica a lungomare Falcone Borsellino ha già dato i primi risultati. La distribuzione a lungomare è effettuata ogni giorno nella fascia oraria notturna. Si tratta di un passo avanti nel miglioramento dei servizi, frutto del lavoro effettuato dall'azienda nel rispetto degli impegni assunti con la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Firetto, che ha chiesto un maggiore approvvigionamento per le utenze del lungomare, la maggior parte delle quali sono esercizi commerciali tra ristoranti, pizzerie, bar e pub, che hanno ogni giorno un elevato consumo idrico. I lavori sull'installazione della nuova condotta sono tutt'ora in corso e sono effettuati con l'ausilio della perforatrice orizzontale. È un intervento dunque eseguito con attrezzature all'avanguardia che consentono di evitare gli scavi che normalmente si effettuano con le macchine meccaniche per il movimento terra. Girgenti Acque conta di concludere l'intervento entro la prossima settimana e di procedere immediatamente al ripristino a regola d'arte del manto stradale interessato dei lavori. Nel frattempo se a San Leone migliora la distribuzione idrica, in città e nel centro storico in particolare si lamentano carenze. Maurizio gelo al microfono di Davide Saia. Agrigento è la carenza idrica, un cittadino di Agrigento lamenta la mancanza appunto d'acqua da dieci giorni al centro storico di Agrigento. Sì, mi rivolgo a titolare di Gigi Ndiacqua perché nel centro storico non arriva l'acqua da quindici giorni circa. Allora, ora dico una cosa io, persone anziane, persone con viglie o che sia il tipo di persona, senza acqua, perché l'acqua è un bene di prima necessità. Si dovrebbe dare come si faceva prima magari ogni tre giorni, ma qua ora siamo arrivati a dodici giorni, quindici giorni. È impossibile perché noi paghiamo le bollette care da mare e qua poi arriviamo appunto che da quindici giorni non hai acqua dentro casa e devi camminare con i bidoni da una casa all'altra casa. Dico, è possibile tutto questo nel 2015? Dico, allora mi rivolgo a chiedi competenza, cortesemente riparate queste tubature perché ti diranno sicuramente che ci sono le tubature rotte, ma non ci possono essere le tubature rotte per tutta la città, perché ieri a San Leone per esempio è arrivato dopo dodici giorni l'acqua, al campo è arrivato dopo dodici giorni e nel centro storico la daranno domani. Ora, se dobbiamo ritornare a vent'anni fa io non ci sto più perché noi paghiamo le bollette care da mare, allora dovete dare il servizio alle persone, quello che gli spetta, quello che uno paga dovete dare, altrimenti non paghiamo più niente e basta.